Oggi è una giornata particolarmente calda e io avrei preferito andare a casa, ma è arrivare a Parisi seguito dall'altro semplice omli che è il Galas, ma no, Carlo va là, scolo, eccetera, eccetera. Allora, io onestamente non so più che vorrei parlare, perché ho parlato degli emigrati, del sindaco non parlo, perché se parlo del sindaco, perché non me lo portate qui una volta? Perché non facciamo un dibattito ancora col sindaco per vedere, con l'ottobre o con i compagni, ma ho raccontato al Parisi e al suo socio della birra che sono andato a mangiare a Trento, mi hanno invitato una sera, a pranzo però, andiamo a pranzo e nel tavolo vicino a un tavolo rotondo, arrivano quattro signori di una certa età, poi con altri due ospiti, poi arriva i due figli, quattordici anni, quindici anni, si siedono, gli anziani collaborano, i figli cosa potevano fare? I figli telefonino cari e poi mangiavano, io non non so come chi fesse, non una parola, non hanno scambiato una parola con quelli del tavolo, e poi probabilmente arrivava la risposta e quella manceva, ma ho pensato potrebbero anche metterlo un attimo sul tavolo a depositarlo, no, niente da fare, col telefonino in mano a leggere la risposta, probabilmente che era arrivata dall'altra parte. Allora parlavo giorni fa con una professoressa di informatica che insegnava a Rese, ed era qui ad Arco, perché è venuta a trovare un ammalato, e si parlava del tutto, e lei mi diceva che il problema sono i giovani, perché i giovani non colloquiano, non parlano, allora ho pensato, se tu ti fai come quelli, mangia e ti 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 ti, effettivamente, il problema è questo, che probabilmente la gente non ha più bisogno di parlare con gli altri, ma parla con gli altri attraverso questi sistemi, che sono il web, che è il telefonino, che è internet, non so, probabilmente c'è questo, come? WhatsApp, con tutte queste cose lì. Io so ad operare WhatsApp perché non crede che a 90 anni, io sono aggiornato, io scannerizzo, io mando le mail, io ricevo le mail, mando i messaggi, faccio le fotografie, le mando WhatsApp, niente da dire per quello. Allora io pensavo, ma se il novantenne Tamanini, se perde Drio, perché poi tra l'altro è la velocizzazione. Una volta in farmacia, fate conto, 30 anni fa, è arrivata una signora che voleva la pisidia. La pisidia è un'erba tipo camomilla che viene adoperata nell'America del Sud, nessuno la conosceva. Tutti a cercare la pisidia, toglie il libro dell'inverno della Beffa, l'altro toglie il Messeghè, quell'altro attore, il Maggioni, l'altro attore, l'altro esperto, insomma, nessuno lo trova. Finalmente arrivo, sì, io te l'ho trovata, mi sono l'inverno della Beffa, vada qui la pisidia, eccetera, eccetera. Mi piega mezz'ora, andar bene. Adesso, tu sei al banco, viene uno che te domanda l'erba XY, ti vai su, ta 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 ta, bravo. 40 fotografie, pagine contro pagine su questo XY. Allora c'è una velocità di informazione che è sbalorditiva. Per cui, uno non ha scoperto, senti Parisi, l'ha trovati perché non sono in modo di trovarlo. Aspetta che domanda al Fabio Galla, la senti a nominarti quella? No, non lo senti a nominarti, eccetera. Una volta c'era tutta una necessità di interloquire con le persone, perché per sapere, molte volte, bisognava andare da altri che conoscevano l'argomento. Oggi, con internet, ragazzi, se sa tutto, non c'è bisogno dell'interprete, perché se c'è la parola inglese che non la conosci, ti vai, back up, se un altro giorno non sapevo cosa era la back up, oltremmo a dire back up di colpo. È un modo di comunicare. E allora, io penso che queste persone si chiudano molto in se stesse. In un certo momento un giovane ha bisogno di colloquiare? No, probabilmente no. Però c'è da dire una cosa, e questa va detta, che ci sono moltissimi giovani in gamba, molti giovani. Il mio astrologo, astronomo, come se chiamano lì, è il fiore del Trenti, le una. La figlia del dottor Fonti, che farà un concerto lì ai Conti il giorno 19, è una pianista di valore e ha 20 anni. Quindi ci sono anche molte persone che probabilmente non smanezzano solamente col computer, perché se una suona il pianoforte la gavano avanti delle persone con cui si interfaccerà. Io non lo so. Dico che questi telefonini sono un po' troppo usati. Ma d'altra parte questo è il mondo e secondo le regole dei contadini ogni lustro gà il suo gusto e noi siamo nel gusto del tatatatatatatatata. Iscriviti al nostro canale